La violenza maschile emerge frequentemente come modalità primitiva quando non si sanno fronteggiare le difficoltà e le insoddisfazioni vissute nel rapporto di coppia. Costruire e vivere un affetto nel tempo richiede competenze emotive e sociali che chiamano in causa il cervello emotivo e la neocorteccia. Quando queste mancano prevale ancora una volta l'aggressività dominante favorita dal perdurare anche in età adulta di impulsività ed egocentrismo. Questi sono il frutto di un'educazione che non ha insegnato a sapere riconoscere le proprie emozioni come la rabbia che monta quando un desiderio non è soddisfatto e ad affrontare le situazioni in modo consapevole cercando concrete soluzioni ai problemi e ai conflitti. Inoltre predomina l'impulsività in assenza di adeguati freni inibitori e non è stata sviluppata la capacità di decentrarsi da sé per considerare le situazioni dal punto di vista del partner. Gli studiosi dell'attaccamento hanno collegato la probabilità di violenza nelle relazioni affettive adulte ai tipi di attaccamento costruiti nell'infanzia e i relativi modelli operativi. Hanno maggiori probabilità di comportarsi in modo aggressivo quegli adulti che non hanno imparato nella loro storia personale a vivere serenamente gli affetti e in particolare a far fronte alle difficoltà della relazione fino all'abbandono. In linea generale gli studi indicano che coloro che hanno fatto esperienza di figure sensibili e responsive sviluppando di conseguenza un attaccamento sicuro sono in grado da adulti di mantenere negli affetti un equilibrio tra la vicinanza all'altro e l'autonomia personale. In concreto sanno coniugare la realizzazione di sé con quella dell'altro. Sono persone aperte, emotivamente stabili, che tendono a formare relazioni durevoli basate su affetto e fiducia.